Buongiorno ragazze, oggi vi parlo del conditioner Mythic Oil per capelli spessi, quindi non facciamoci spaventare se abbiamo un cappello spesso e utilizziamo un conditioner, non sempre va bene la maschera. Questo è un prodotto adatto a tutti i tipi di capelli grossi e spessi, ma che hanno bisogno di una nutrizione leggera o normale, quindi non intensa. Ovviamente dopo il nostro shampoo l'andremo ad applicare sulle nostre lunghezze e punte, pettinato, due o tre minuti di posa e lo possiamo risciacquare e passare alla nostra piega. Contiene strati di argan e mirra, quindi avremo un cappello bello lucido, setoso, morbido, senza comunque andare ad appesantirlo. Noi lo possiamo utilizzare tutte le volte che ci facciamo lo shampoo, tranquillamente, e ne ripeto, qualche minuto di posa giusto perché il cappello possa assorbire il nostro prodotto. Mi raccomando su un cappello normale o spesso. Ragazze grazie, ciao!